Ciao a tutti e ben ritrovati ancora nel mio studio ancora per una nuova video lezione dedicata all'acquerello. Oggi faremo insieme un esercizio che è estratto da una lezione integrale che trovate su Patreon. Di questa lezione ho estrapolato le parti principali per spiegarvi un metodo abbastanza preciso per imparare a dipingere seguendo dei passaggi che di fatto sono sempre gli stessi applicati e applicabili a qualsiasi soggetto. Il metodo naturalmente è quello dell'acquerello classico che abbiamo già visto anche in altre occasioni però in questo video vi spiegherò perché è importante seguirlo soprattutto quando stiamo imparando a dipingere. Perché seguire i passaggi che vi propongo e perché fare tanti esercizi con questa tecnica prima di iniziare un po' a sperimentare in autonomia e a scegliere poi quella che sarà la vostra strada nella pittura. Come sempre potete scaricare il soggetto iscrivendovi alla mia newsletter e se siete già iscritti naturalmente l'avete già ricevuta e avete già scaricato l'immagine. Quindi non vi resta che preparare i vostri acquerelli, il vostro pennello, il vostro foglio d'acquerello e iniziare subito a dipingere insieme a me. E parlando di disegno classico naturalmente non possiamo esimerci dal realizzare un buon disegno di costruzione ovvero quel disegno che stabilisce le proporzioni, le misure e la posizione dei diversi soggetti che vogliamo rappresentare. Viene eseguito con una matita non troppo temperata, anche una matita morbida potrebbe andar bene, che appunto viene utilizzata quasi parallelamente rispetto al foglio proprio perché non deve definire. In questa fase la cosa importante è fissare i blocchi, i volumi e le proporzioni del soggetto nell'insieme dei diversi elementi che lo compongono. Quando capita di sbagliare si cancella e si aggiusta ma si sovrappongono anche linee su linee spostando l'immagine, spostando i bordi, aggiustandoli proprio perché stiamo costruendo. Il disegno di costruzione per sua stessa definizione è un disegno spesso sbagliato, impreciso. Terminata l'impostazione generale alleggeriamo con la gomma pane portando via la gran parte della polvere di graffite che rimane sul foglio e con una matita un po' più dura e un po' più temperata iniziamo a definire quello che comincia a essere un disegno più preciso che ci avvicina già un po' di più alla pittura. Quando parliamo di pittura figurativa e di acquerello figurativo in particolare, soprattutto se parliamo del metodo classico, quello che poi veramente insegna a dipingere, ci accompagna nella scoperta della pittura e ci insegna anche a gestirla correttamente, parliamo di un lavoro che deve essere molto preciso, molto definito prima di passare alle velature. Su internet probabilmente troverete chi vi dice che la pittura deve essere ispirazione, deve essere libertà assoluta, libera da ogni vincolo. Ecco il disegno fatto così non è un vincolo, è semplicemente uno strumento che davvero vi permette di imparare. Poi è sacrosanto divertirsi e sperimentare con la pittura, io lo dico sempre anche ai miei studenti su Patreon, da poco ci siamo dedicati anche a un corso di acquerello astratto proprio per divertirci un po', però è un dato di fatto e oggettivo che se vogliamo davvero imparare a disegnare e a dipingere ciò che ci circonda, quindi se vogliamo realizzare delle immagini realistiche, credibili, senza troppi errori che poi le rendano un po' strane, un po' storte, bisogna per forza passare da questa strada. Non se ne esce, è così da secoli e secoli, non è mai cambiato e così credo che sarà sempre. Cioè bisogna fare esercizio, prendere le misure, prendere le proporzioni, costruire l'immagine e così via. Tutti i passaggi che stiamo vedendo insieme. Quello che vi propongo è infatti il metodo classico, quindi la tecnica classica dell'acquerello che parte dal disegno e poi inizia a gestire le ombre lavorando col bistro. Il bistro è un colore grigio neutro che potete prendere nero già pronto dalla tavolozza e diluirlo con un po' di acqua o potete ottenerlo con un marrone un po' di blu, con i tre primari, insomma potete ottenerlo in tanti modi. L'importante è partire da un colore grigio neutro, leggerissimo, molto molto chiaro, che ci serve per iniziare a impostare le ombre. Quindi teoricamente quello che ora dobbiamo fare è concentrarci solo ed esclusivamente sulle ombre cercando di dare già un po' di tridimensionalità. Quindi le ombre che sono più scure avranno più velature, più passaggi. Le ombre che sono più chiare magari avranno un solo passaggio. Ecco qua infatti sto iniziando la seconda velatura di bistro dopo che ho già dato una prima velatura, intervenendo appunto nelle parti che vanno scurite, come vediamo dall'immagine. Tenete conto che questa tecnica, questo metodo classico non è solo dell'acquerello, ma è tipico di tutte le tecniche pittoriche. Nell'olio per esempio esiste il brunaccio e poi la grisaglia. Sono esattamente gli stessi passaggi, quindi l'immagine viene eseguita prima il monocromo e poi sopra il monocromo vengono date velature di colore. E nel caso specifico dell'acquerello queste velature sono proprio quei passaggi che poi devono garantire la trasparenza tipica di questa tecnica. Quindi dovete eseguirle con il serbatoio del pennello abbastanza carico. Poi il colore all'interno del serbatoio può essere più chiaro e più diluito se state facendo i primi passaggi, le ombre più chiare, oppure meno diluito e più denso se state facendo i passaggi leggermente più in ombra, leggermente più scuri. Quindi man mano che andate avanti con le velature in buona sostanza dovete ridurre progressivamente la diluizione del colore in tavolozza. È logico che ogni volta che abbiamo una sfumatura aggiungiamo dell'acqua e sfumiamo direttamente sul foglio. Proseguiamo così su tutto il soggetto continuando a diluire, a caricare scuri ogni volta che serve fino ad arrivare ai neri massimi se necessario e a questo punto io taccio, vi lascio in compagnia di questo video in cui vi accompagno passo per passo, vi lascio in compagnia della musica che avete scelto di sottofondo e ci risentiamo tra pochissimo. Davvero tra pochissimo, eccomi qua. Finito il passaggio di bistro, quindi finita la gestione delle ombre, cerchiamo i colori del soggetto e quindi interveniamo sul manico di questa che credo sia una lattiera e poi naturalmente cerchiamo il blu, i colori più freddi e li stendiamo sulla zuccheriera, sulla tazza, sulla destra. Naturalmente questo lavoro vale sia per questo soggetto che per tantissimi altri soggetti differenti. Se ci troviamo davanti a un'arancia, per esempio, daremo prima il bistro grigio, identico a quello che abbiamo dato su questo soggetto e poi successivamente daremo una velatura di arancione. Siamo di fronte a una mela e magari dopo il bistro daremo il verde, stiamo facendo un ritratto dopo il bistro, faremo l'incarnato e così via. Ma il metodo è sempre quello, per questo è importante conoscerlo, perché ci permette di lavorare con lo stesso metodo, appunto, con tutti i soggetti che esistono al mondo fondamentalmente. E questo nella quello ci dà una certa, se vogliamo, consapevolezza, sicurezza nella realizzazione dei nostri dipinti e ci permette di garantire sempre più o meno lo stesso risultato. Poi alcuni usciranno meglio, altri meno bene, però comunque avremo sempre un risultato abbastanza accettabile. Fermo restando che il disegno di base deve essere sempre abbastanza preciso. Ora, sullo sfondo invece possiamo divertirci a creare delle macchie, dei volumi e giocare un po' col pennello tramite velature secche più bagnate. L'importante è comunque sempre rispettare con grande attenzione il bordo del soggetto. A questo punto, dopo aver dato le prime velature di colore, se necessario torno di nuovo sulle ombre, quindi sul bistro, per rafforzare quelle parti che effettivamente sono più scure. Quindi da adesso in poi alterneremo velature di bistro, quindi di ombra, e velature di colore. Una distinzione importante. Parlerò di bistro ogni volta che la velatura che sto dando è riferita alle ombre. Parlerò di nero o di grigio ogni volta che la velatura che sto dando è riferita al colore. In realtà il colore che stendiamo è sempre lo stesso, però a livello tecnico, a livello di proprio metodo, quando parliamo di bistro parliamo soltanto delle ombre. anche se poi il colore è identico, per esempio al bordo della lattiera. Anche quello è un nero e il colore è lo stesso, però lì è nero e in basso è bistro. È una distinzione banale, un po' stupida, che però serve per capirci ogni volta che nomino bistro piuttosto che nero. Una volta che asciuga il bistro, di nuovo torno sul colore e lo rafforzo. E si va avanti così, alternando appunto questi passaggi di ombra e di colore fino a che l'immagine non raggiunge un suo equilibrio che ci convince. Perché consiglio questo metodo quando state iniziando a dipingere? Perché appunto è un metodo, cioè nel senso che segue dei passaggi e sono sempre quelli. E vi permette di arrivare a un buon risultato gradualmente, leggendo di volta in volta il lavoro che avete fatto, valutandolo e confrontandolo sempre col soggetto. Quindi ogni volta voi date una velatura, ogni volta poi guardate la fotografia e valutate se dovete scurire ancora, oppure se può essere sufficiente così. Questo è proprio quello che vi permette di prendere confidenza con la tecnica e di farla vostra. È naturale che questo metodo va bene per imparare, ma poi potete anche liberarvene. Uno può partire da qua e poi inventarsi una sua strada. Io stesso non dipingo più così, ho dipinto così per anni, ho studiato il bistro per anni, l'ho approfondito, ma oggi dipingo con una tecnica mia, che ho composto di diciamo, prendendo il meglio da tutte le tecniche che ho studiato. Per chi di voi mi segue su Instagram, su Facebook o su Patreon, sa benissimo che lavoro per zone, per settori, finisco una parte e poi mi sposto. Anzi, ne approfitto per invitarvi, se ancora non lo fate, a seguire la mia pagina Instagram e Facebook, semplicemente perché di potete vedere i lavori di work in progress di una tecnica diversa da questa, ma che da qui è partita. e potete farvi un po' un'idea di dove si può arrivare partendo da un metodo classico come questo. Vi ricordo che questa lezione è una lezione disponibile in versione integrale su Patreon, quindi per chi sta cercando un percorso strutturato, organico e magari anche la possibilità di un confronto, oltre che con me, anche con gli altri studenti che frequentano. Patreon diciamo che è la scuola ideale. Si tratta di una scuola online in cui condivido tutto tutto ciò che so, l'obiettivo è quello e quindi ci sono lezioni teoriche, lezioni pratiche naturalmente di acquarello, carboncino, grafite, lezioni di come comporre una natura morta, come scattare le foto, c'è davvero un po' di tutto. Non ho più fatto il conteggio ma dovremmo essere a più di 400 ore di lezioni per l'abbonamento illimitato. Comunque trovate naturalmente tutto nel mio sito e qua sotto, nel link che vi metto in descrizione. Tornando a noi, sto ridefinendo gli scuri di questo lavoro, nelle parti in cui effettivamente abbiamo uno scuro un po' più deciso. E sto ridefinendo con un bistro che di volta in volta posso anche modificare leggermente, magari con un colore più o meno freddo, in base alle zone. Ecco, la cosa veramente difficile nell'acquarello, a mio avviso, non è ottenere i colori scuri. La cosa più difficile è tenere gli acquirelli leggeri. La tendenza è quella di caricare eccessivamente il colore. E anche qui questo metodo vi viene in soccorso, perché è un metodo di sovrapposizione e di velature. Quindi quando... Ecco, questa è la condizione in cui mi tocca lavorare. Ho già tagliato 5, 6, 7 audio per il rumore di sottofondo di maia che adesso pretende cibo, mentre io sto doppiando vuole cibo. Io ringrazio davvero tanto chi mi scrive, chi mi dice che sono molto professionale, molto serio. Però ecco, queste sono le condizioni in cui lavoro. Questa è la verità. Comunque, tornando a noi e maia a parte, che intanto ho sfamato logicamente, se no non ci sarebbe questo silenzio, torniamo ancora sul nostro lavoro progressivamente con colori sempre più densi, sempre più scuri che servono proprio per dare, man mano che andiamo avanti, gli scuri massimi. Quindi, contrariamente a quel che si pensa, con questa tecnica e quando si cerca di capire una qualsiasi tecnica pittorica, lo scuro massimo non è dato da un colore più denso che viene dato immediatamente. Viene dato tramite, viene raggiunto tramite sovrapposizione di passaggi. Un po' come funziona nel disegno, nel carboncino. Lo scuro massimo a matita non è dato da un passaggio in cui io calco tanto la matita e lo tengo in un solo tratteggio. Lo scuro massimo a matita viene gestito tramite una serie di sovrapposizioni di passaggi progressivamente più scuri. Proprio perché questa progressione di gestione dell'intensità delle ombre e del colore è proprio quella che ci dà il tempo di leggere correttamente l'immagine. Difidate da tutti quegli esercizi che vi dicono velocissimo dipingere in cinque minuti, imparare a dipingere in un giorno. Ecco, non è proprio così. È un lavoro lungo, di pazienza, fatto di esercizio quotidiano che bisogna portare avanti con tanta passione e appunto con tanta pazienza, soprattutto all'inizio. Però con questo metodo, senza ombra di dubbio, voi potete raggiungere degli ottimi risultati tramite le velature e l'utilizzo del bistro. A questo punto osservo l'immagine, osservo il mio lavoro e valuto se il colore celeste della tazzina a destra è sufficiente, cioè il colore che ho dato, o seppure devo fare un altro passaggio e evidentemente devo fare una seconda velatura. Quindi preparo un colore leggermente più denso, tornando al discorso di poco fa, e stendo su tutta la superficie del soggetto questo colore leggermente più intenso. È chiaro che avrei potuto raggiungere subito questa intensità di colore, ma è anche vero che avrei perso molte trasparenze e avrei perso anche l'occasione di leggere con grande attenzione il colore del nostro soggetto. Una volta asciutta la velatura precedente, ritorno ancora su questo elemento della nostra composizione con un colore leggermente più denso. E lo faccio questa volta lasciando scoperta in qualche modo la velatura che ho appena dato e che si è appena asciugata. Facendo così creiamo proprio la tridimensionalità, cioè ogni passaggio che noi facciamo in teoria deve permetterci di vedere i passaggi precedenti. Tutti questi passaggi insieme sono proprio quegli elementi, quei fattori che ci danno la tridimensionalità dell'immagine, perché io posso leggere i colori, e l'intensità, la saturazione del colore, dal più chiaro fino a quello più scuro, gestito anche se serve con un nero pieno, come abbiamo visto prima, quindi col bistro. L'immagine su cui stiamo lavorando, come sapete, può essere scaricata iscrivendovi alla mia newsletter e per correttezza vi dico che non è un'immagine che ho scattato io, è un'immagine che ho selezionato insieme ad altre, appunto per il corso che trovate in versione integrale su Patreon, è un'immagine che ho preso da un database che ha tantissime immagini, arriveranno forse a milioni di immagini, e in cui a volte vado un po' a cercare ispirazione proprio per le mie lezioni. L'ideale sarebbe naturalmente sempre lavorare da foto che scattate voi personalmente, proprio per scegliere voi i soggetti che più vi piacciono, perché questo naturalmente è un esercizio ripetitivo e quindi il fatto di lavorare su un soggetto che magari non vi piace può essere un po' ostico, quindi se avete il soggetto che vi piace di più è meglio, però potete anche fare come ho fatto io, quindi abbonarvi a una piattaforma che mette a disposizione tantissime immagini, scaricarle e utilizzarle poi per esercitarvi e per dipingere. L'altro esercizio utilissimo è quello di lavorare dal vero, quindi invece che lavorare da fotografia come stiamo facendo in questa lezione, potete molto semplicemente mettervi davanti uno, due, tre oggetti all'inizio molto semplici, mi raccomando, e copiarli dal vero. Proseguiamo intanto a scurire le parti più in ombra, lo facciamo sia con un colore sempre più denso, magari un colore anche un po' sporcato col bistro, sia con un bistro puro se interveniamo nelle parti di ombra massima. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è riequilibrare fondamentalmente l'immagine fino a quando non raggiungiamo l'equilibrio della fotografia o comunque un equilibrio realistico che ci soddisfi. In questo passaggio che cosa si fa? Si guarda la zona di luce e si valuta. In questa zona ho raggiunto il colore che mi serve? Sì, perfetto, allora non devo più intervenire. Nella zona leggermente più scura, quindi per esempio nel mezzotono, ho raggiunto il colore che mi serve? No, vuol dire che devo dare ancora una velatura. Nell'ombra massima ho raggiunto il colore che mi serve? No, vuol dire che devo caricarla ancora. Quindi fate asciugare a ogni passaggio e a ogni passaggio rivalutate l'intervento da fare successivamente. Continuate così fino a raggiungere gli scuri massimi che ci sono in fotografia. E una volta che li avete raggiunti possiamo considerare concluso il nostro esercizio. Ecco, questo è il metodo con cui ho imparato a dipingere anch'io. All'inizio con gli acquelli ho iniziato un po' a sperimentare, cercando di capire come funzionassero senza mai arrivare a un risultato coerente. Cioè una volta mi usciva bene un dipinto, la volta dopo mi usciva una totale schifezza, dovevo buttarlo e così avanti con questa altalena, fino a quando non ho scoperto. Questa tecnica ho iniziato a studiarla con metodo e anche un po' con, oltre che con passione, con un po' di testardaggine e a un certo punto mi sono reso conto che seguendo questi passaggi ogni volta, i passaggi che abbiamo visto insieme e applicandoli a qualsiasi soggetto, di fatto il risultato era sempre, aveva sempre un minimo di apprezzabilità. Ecco, non scendeva mai sotto un certo livello. Naturalmente anche in quel caso ci sono lavori che escono meglio e lavori che escono peggio, però con questo metodo effettivamente il risultato risulta abbastanza coerente. E soprattutto ci permette di capire davvero l'acquerello, di capire questa tecnica tanto difficile, tanto affascinante, cosa che poi ci permette in futuro di sperimentare e di trovare una nostra strada, un nostro percorso. Però da qui si parte. Naturalmente sul mio canale trovate anche altri video dedicati a questo argomento, dove spiego altri passaggi, ma di fatto un po' sempre dello stesso metodo, però possono essere degli spunti per nuovi esercizi. Se vi è piaciuto questo video e volete rimanere aggiornati sui prossimi che pubblicherò, vi basterà iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina e vi apparirà la notifica in alto a destra. Infine, vi ricordo che se state cercando un percorso coerente e strutturato, su Patreon ho aperto la mia scuola online di disegno e pittura, dove trovate questa lezione in versione integrale e ormai credo più di 400 ore di lezioni di disegno, di acquerello, di teoria, di composizione, insomma un po' di tutto, c'è davvero tanto. E c'è anche un bel gruppo di appassionati con cui ci ritroviamo ogni giovedì in diretta streaming per le correzioni dei lavori. Di tutto questo naturalmente vi lascio il link qua sotto. E a questo punto credo di avervi detto tutto, non mi resta che augurarvi un buon divertimento e un buon fine settimana. Alla prossima, ciao!